Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Porchi e oggi siamo andati qui su My Little Bloopers. Quest'oggi ci consenteremo sulla parte 1 delle minacce del drago, ovvero l'episodio 7 della prima stagione, mentre una salzone in città è l'episodio 6. Iniziamo. In questa scena, mentre... Ah sì, mentre le minacce devono saltare un dirupo, il chiuso di Mark di Rainbow Rush non ha la nuvola. Invece, durante questa scena, ovvero quando le minacce si incontrano il drago, sebbene sia nascosta, Fruttershy fa ben due apparizioni sullo sfondo. Ecco, qua si vede molto meglio la roccia. Durante l'episodio... Anzi no, durante la scena di Twilight, perché appunto devono provarci una alla volta, il drago ha le narici doppie. Mentre Pinkie Pie scherna Rainbow Dash, perché l'ha fatto perdere il conto, le sue parti posteriori hanno gli stessi colori freddi, invece di avere uno di colore freddo e uno di colore caldo. Bene ragazzi, io direi che per questa parte può essere tutto, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!